Ciao a tutti, sono Paola di Your Entertainment Ticket. Venite a trovarci tutti i giorni su www.yeticket.com Oggi ho visto un film che è stato filmato in Italia, a Verona, si parla di Giulietta, Romeo Giulietta, si chiama Lettere a Giulietta. E' un film americano che uscirà fra poco qui in America ma anche in Italia che parla della storia di una giovane americana che lavora per il New Yorker e che decida con il suo finanzato di andare a Verona per fare una luna di miele prima di sposarci. E arrivano lì e invece di spendere il tempo insieme lui si preoccupa del suo ristorante perché è un chef e lei decida di andare per le strade di Verona e esplorare un poco. E' lì che incontrerà le ragazze che fanno parte del club di Giulietta dove la gente scrivono le lettere a Giulietta per trovare, avere consigli sull'amore o hanno perduto un amore importante nella loro vita. E così comincerà la nostra storia dove lei troverà una lettera scritta cinquante anni fa e allora vanno insieme in un'avventura per provare di cercare questo Lorenzo che lui vive a Siena e è molto interessante. Comunque per parlare un poco degli attori in questi film c'è Amanda Seafred che fa la parte di Sophie, la conoscete può darsi di Dear John, Caro John, che ha fatto anche nel musicale Mamma Mia. C'è anche un attore molto conosciuto nei film internazionali, si chiama Gael Garcia Bernal che ha fatto il sogno, la scienza dei sogni e anche Motorcycle Diaries, in italiano si chiama il diary della motocicletta. Però in questo film lui non ha una parte principale, è un po' un peccato perché è un bravo attore. Comunque alla fine io ho dato questo film tre stelle su cinque perché ho pensato che è una bella comedia romantica, però alla fine è sempre la stessa cosa, le stesse storie che conoscete bene, le storie all'americana che finiscono bene, è un poco predittibile, e alla parte di Sophie, sempre la ragazza perfetta. Va bene, allora io penso che comunque è un bel film da andare a vedere, potete ritrovare a Verona, bei posti dell'Italia, una bella promozione per l'Italia. Io sono Paola, venite a trovarci tutti i giorni su www.wayticket.com. Ciao! 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 Grazie a tutti.